Colpo a sorpresa quello del vice sindaco dell'Aquila Guido Liris, medico nell'asla provinciale con il ruolo di dirigente medico. Dopo mesi di aspettativa, 11, ha deciso di rientrare part time nell'azienda sanitaria. Già da qualche giorno Liris, in realtà vice coordinatore regionale di Forza Italia, ha ripreso a lavorare nel nosocomio aquilano con un impiego part time nel Dipartimento della Prevenzione, stesso posto che aveva prima di decidere di dedicarsi completamente all'impegno politico che lo ha visto vincente alle elezioni e votatissimo, tra l'altro record man di preferenze. Il vice sindaco ha deleghe molto importanti come quella delle opere pubbliche. Difficile ora capire quali scenari si potrebbero aprire.